Iniziamo il programma prendendo spunto dall'opera tosca, opera in tre atti di Giacomo Puccini, maestro Rustichelli. Prima rappresentazione a Roma, Teatro Costanzi, nel 1900. Dario Rustichelli e ci farà ascoltare l'aria Regonti d'Armonia. Atto primo. Siamo nella chiesa di Sant'Andrea della Valle. Mario Cavaradossi, mentre dipinge, canta quest'aria meravigliosa. Prego. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.